Bene comune, inclusione, sviluppo integrale. Sono i cardini del vero progresso economico, secondo Papa Francesco, che in Sala Clementina ha ricevuto i partecipanti alla Conferenza Internazionale Iniziativa Imprenditoriale nella lotta contro la povertà, l'emergenza profughi, la nostra sfida, organizzata dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. L'attenzione del Papa è andata ad una crisi alla quale, ha detto, si sente particolarmente vicino quella dei migranti. Ha ricordato che in aprile, a Lesbo, con i fratelli ortodossi Bartolomeo I e Geronimo, è stato testimone di strassianti esperienze di sofferenza umana. Al di là dell'immediato e pratico aspetto del fornire aiuto materiale a questi nostri fratelli e sorelle, la comunità internazionale è chiamata a individuare risposte politiche, sociali ed economiche di lungo periodo a problematiche che superano i confini nazionali e continentali e coinvolgono l'intera famiglia umana. In Aula Nuova del Sinodo, i lavori della conferenza voluta dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, a 25 anni dalla promulgazione della lettera enciclica di San Giovanni Paolo II, proprio per porre l'attenzione su povertà e migrazioni. Di queste si occupa il gesuita statunitense Richard Reiscavage, fondatore del Center for Faith and Public Life all'Università di Fairfield, in Connecticut. Ci sono così tanti bambini non accompagnati che stanno entrando negli USA da El Salvador, Guatemala, Honduras, di cui negli Stati Uniti nessuno sa nulla. Esistono 120.000 bambini non accompagnati che sono presenti attualmente nel paese. Pertanto è una questione molto seria, un grave problema su cui cerchiamo di attirare l'attenzione del pubblico, perché in genere le persone non ne vogliono sentir parlare. Pensare ad una ragazzina di 7 anni che viaggia da sola attraverso il Messico fino agli Stati Uniti è troppo triste. Si tratta infatti di un viaggio molto pericoloso ed è quasi impossibile pensare ad un bambino di 7 anni che arrivi da noi in quelle condizioni. Spesso vengono attaccati, sono esposti alla violenza, vengono violentati, sono vittime del traffico di esseri umani. Dal Papa l'invito a porre le fondamenta per una cultura economica e degli affari che sia più inclusiva e rispettosa della dignità umana. È d'accordo Domingo Sugranias Bickel, presidente della fondazione. Quello che vogliamo è sottolineare che l'imprenditorialità è perfettamente compatibile con una posizione di fondo basata sulla condivisione e la solidarietà. Sono assolutamente compatibili. Non lo sono spesso nei fatti, ma possono esserlo. Luen Zurlo, docente di economia ed educazione nei paesi in via di sviluppo alla Catholic University of America di Washington, ha fondato una ONG che si impegna a migliorare lo sviluppo del capitale umano in America Latina. Portiamo avanti tre diversi programmi. Il primo consiste nella formazione dei presidi, il secondo nel formare professori di matematica e scienze, mentre il terzo sostiene gli insegnanti nell'utilizzare un miglior metodo di insegnamento per l'inglese. Tutte e tre le discipline, quindi formazione dei dirigenti, matematica e scienze, insegnamento dell'inglese, sono fondamentali a livello economico. Sono competenze che gli studenti e i giovani in America Latina non imparano bene. Ne consegue pertanto un'incompatibilità o un divario tra ciò che richiedono gli imprenditori alla forza lavoro sul mercato dell'impiego e quanto la popolazione è in grado di offrire. Pertanto quello che cerchiamo di fare è formare i giovani in queste aree in modo da consentire loro di vivere un'esistenza degna anche dal punto di vista lavorativo.